Ma guardate quanto sono carini, siete dolcissimi, saluta, è una storia. Torniamo a casa e trovo un Ray così, che ha rubato la mia faccetta e se l'è messa in testa. Ray, ma cosa fai? Sei riuscito a toglierla? Sai chi è quella mia e io poi me la metto nei capelli? Sbadigli. E' bravo. Il bruco un giorno si schiuderà, ah ragazzi si sta schiudendo, e diventerà una farfalla. Assistiamo a questa trasformazione. Ragazzi, la farfalla è sbocciata. E sbadiglia come sempre. Allora, la farfalla è sbocciata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.